Siamo qui con Matteo Romano, la premiazione del Festival dello Studente, una grande occasione per tanti giovani per mettersi in mostra e superare le proprie difficoltà. Assolutamente, io in primis ci sono passato ed è veramente un qualcosa che è necessario per i giovani in generale ma soprattutto per la città di Cuneo, quindi è una spinta motivazionale molto importante per l'arte. Ecco, tu l'hai vinto, che effetto fa passare dall'altra parte e premiare? Eh, fa strano, fa strano ma perché è stato strano tutto l'ultimo anno, quindi in realtà è strano pure essere qua in veste di colui che dà i premi, però è veramente un onore poter essere qua e rappresentare un po' la musica di Cuneo. Vedere tanti volti noti che conosci, che effetto fa? Eh, fa strano anche quello perché appunto sono persone che conosco e adesso magari non mi trattano più come amico ma più come fan ed è strano, però è bellissimo. Oggi è anche l'inaugurazione del Parco Parri, un grande polmoni verde per la città di Cuneo. Assolutamente, io in realtà è la prima volta che lo vedo perché era un po' che non tornavo a Cuneo e devo dire che è stato fatto veramente un lavoro meraviglioso. Sono molto contento, soprattutto in base a quello che era prima, è stato secondo me veramente riqualificato e può essere una zona che riprende forma qua a Cuneo. Un gradito ritorno per te qui a Cuneo. Sempre, assolutamente. Grazie.